Grazie Presidente, nonostante tutto il gruppo politico sia sensibile a questa tematica perché abbiamo anche approfondito, tuttavia dobbiamo astenerci su questa proposta per un semplice motivo normativo. Il riconoscimento di intitolazione di piazze e strade si può fare a un punto di vista normativo solo dopo i decorsi di dieci anni dal decesso. Io lo sto motivando, consigliere, solo passati dieci anni, si può derogare a questa previsione solo per fatti specie più che eccezionali. Io riferisco questa visione, più che altro perché mi sono imbattuto anch'io, mi sono trovato davanti a questo dato normativo che purtroppo è insuperabile, almeno come hai detto in casi eccezionali. Pertanto questa è la motivazione per cui ci rasterremo su questo atto. Grazie.